La canzone Abbracciame Il video è diventato un video realizzato nell'ambito del più ampio progetto Campania d'Alta Voce e presentato alla Sala De Santis di Palazzo Santa Lucia. L'obiettivo è quello di fornire agli alunni nuovi strumenti di educazione e di apprendimento utilizzando il linguaggio universale della musica attraverso laboratori specifici come quello di espressione teatrale e musicale interculturale o ai percorsi di impostazione della voce e recitazione del corpo. Il ideatore dell'iniziativa è il compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Carlo Morelli. Ascoltando un giorno il brano Abbracciame mi è venuta l'idea di coinvolgere 2000 ragazzi delle scuole. Loro sono impazziti, li ho fatti studiare, tanti esperti nelle scuole per provare. E poi li abbiamo riuniti insieme, li abbiamo messi insieme, li abbiamo portati nella base navale militare e là è stata un'esplosione di gioia e di suoni. Ulteriori dettagli li ha forniti l'assessore alla scuola, alle politiche sociali e alle politiche giovanili della regione Campania, Lucia Fortini. In realtà questo è un progetto che si inserisce in Scuola Viva, che è un programma al quale sono particolarmente legata, lo amo perché abbiamo consentito ai ragazzi di imparare divertendosi. Noi abbiamo una distanza che a volte è siderale da loro, siamo considerati noiosi, non riusciamo a trasmettere i messaggi giusti e invece attraverso la musica, il teatro, lo sport, cerchiamo veramente di intercettare quello che loro interessa. Credo che questa debba essere la strada da continuare a percorrere. Grazie. 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 Grazie.